Il profilo ha un buon rapporto di proporzione con il ragazzo del viso e noto come difetto esclusivamente la ristrettezza delle arcate che comporta una riduzione della lunghezza e quindi dello spazio disponibile per allineare correttamente i denti. Per avere appena fatto dieci anni è molto avanti per meccanere i denti. Mancano solamente altri grandi. Questo carino da latte che è il terzo. Questo che potrebbe cadere da qui qualche mesetto e quest'altro. Forse non è il momento ideale per partire perché mancano questi ultimi cucchiai. Però da qui, diciamo, quest'estato e quest'autunno potrebbe essere il momento di partire se abbiamo voglia di allargare un po' la carta, farci il posto per far rientrare questo dente un po' fuggitivo e farci il posto anche per allineare perfettamente i visi di sotto. Grazie.